Sapete chi sono questi ragazzi? Sapete perché hanno dei fumogeni in mano? Sono gli studenti di liceo Giulio Cesare di Roma che hanno appena occupato il loro istituto. Seguiremo la loro occupazione, le loro testimonianze e quelle delle istituzioni ascolteremo anche degli esperti. Vedremo cosa si fa davvero in un'occupazione e quali sono le sue conseguenze. Questo è Dentro un liceo occupato. Che di Roma lo sa, dicembre è il mese delle occupazioni, ma quest'anno c'è stato un vero e proprio boom. Sì, ma che cos'è un'occupazione? Occupare una scuola è invasione arbitraria di immobile. In poche parole, entrarci illegalmente e impedire lo svolgimento delle lezioni. Ma adesso, un po' di storia. Le prime occupazioni avvennero durante i movimenti studenteschi del 68. E sono riusciti a ottenere delle cosucce, come il sei politico. E perché ora lo fanno? Prima di risponderti entriamo nel Giulio Occupato. Stiamo entrando al liceo Giulio Cesare. Ci sta lei che raccoglie le offerte del liceo Giulio Cesare. Offerte libere, obbligatorie. Ok, chi è che fai entrare e chi è che non fai entrare? Allora, facciamo entrare... Faccio entrare esclusivamente gli studenti del Giulio, con qualche eccezione per gli ex studenti. Ok, e poi noi. Avete capito bene, occupare sarà pure illegale. Ma sulla sicurezza non transigono. Perché tu stai qua nel centralino? Per gestire gli ingressi, diciamo. Ok. Qua abbiamo le telecamere, vediamo chi entra e chi esce. Ti stanno telefonando? Liceo Giulio Cesare, buonasera. Ma chi si fa davvero dentro un liceo occupato? Questo è il programma di oggi, seguiremo un po' le varie attività. Adesso c'è stata una discussione sulle problematiche del sistema scolastico. Quindi è tutto segnato e possiamo andare. Adesso si sta tenendo un corso fatto da un sociologo sui problemi del sistema scolastico italiano. Che hai un aeroplaneo in mano? Perché stiamo facendo un incontro con un sociologo e da una parte scriveremo appunto una cosa che ci spinge ad andare a scuola e dall'altra parte una cosa che invece non ci fa venire un po' le... E tu cosa hai scritto? Allora, una parte appunto la delega a un mio professore che purtroppo è deceduto. Cosa invece non ti spinge ad andare a scuola? Chiamate il sacrificio, quindi sacrificarsi per un qualcosa. Solamente perché ci troviamo in una società in cui se tu non studi non puoi lavorare. Lui è il sociologo Roberto Latella che ha voluto dirci se un'altra scuola è possibile. Cosa è emerso da questo corso? Che ancora una volta purtroppo vige molto l'ansia, la paura, la competizione, il giudizio e questo non aiuta assolutamente i ragazzi a imparare. Secondo lei come si può cambiare la scuola? Prendo metodi di insegnamento, modelli di lavoro che favoriscono la reciprocità, che favoriscono la connessione emotiva. Basterebbe, come dire, studiare un pochino le neuroscienze, come apprendono gli esseri umani e applicarli a un contesto come quello della scuola. Nel concreto, lei, cos'è la prima cosa che cambierebbe? Mi proverai a immaginare un sistema di valutazione diversa da quello dei voti che conosciamo. Ok. Ora non hai detto perché hanno occupato. Ma chi è che manda i messaggi? Comunque ora ce lo facciamo dire proprio da loro, i rappresentanti dell'Istituto del Giulio. Ragazzi, innanzitutto grazie per essere qua e per averci reso partecipi della vostra occupazione. Perché avete occupato? Allora, abbiamo occupato per le questioni che riguardano il sistema scolastico in generale, ad esempio la questione della competizione, del merito, della valutazione. È un discorso complensivo in cui poi dentro ci sono anche discorsi più interni alla scuola. Avete paura di possibili ripercussioni che vi possono accadere a voi rappresentanti dell'Istituto che vi siete presi questa responsabilità? È una domanda. L'occupazione non implica chissà che cosa. Il massimo che può implicare è una denuncia. Eh sì, ad occupare il rischio c'è. E infatti... L'occupazione a ricorrere di specifici presupposti potrebbe sì integrare a una fattispecie di reato. Avvocato, grazie mille per essere qui. Cosa si rischia ad occupare? Vi sono due disposizioni normative di particolare interesse. L'articolo 633 del Codice Penale che punisce coloro che invadono un terreno, un edificio per occuparlo. La giurisprudenza ha ritenuto non operante questa norma per i casi di occupazione studentesca con finalità di protesta. Se assumono la forma di precludere la possibilità di esercitare le attività tipicamente scolastiche, quindi le lezioni, potrebbe senza ombra di dubbio configurare una diversa fattispecie di reato disciplinata nell'articolo 340 che è appunto l'interruzione di pubblico servizio. Anche questa pulita con la pena della reclusione. Al giugno si è fatto tardi e mentre i ragazzi si preparano a passare la notte in bianco, noi ci organizziamo per la mattina dopo. Senti, sostanzialmente il ragazzo che ha le chiavi della scuola, sta dormendo e per non svegliare adesso mi tocchia la scuola al caro. Adesso casco. Ma guarda quanto sono agile! Questa è un'uscita secondaria e gli occupanti hanno dovuto mettere tutte delle barriere, chiaramente, per non fare entrare. Questa è comunque un'occupazione. Se fino ad ora abbiamo considerato solo il punto di vista degli studenti, adesso è bene considerare il punto di vista anche di chi sta dall'altra parte. Davanti alla scuola infatti si erano adunati la preside, i prof e i vide... ehm... personale app. Noi avevamo già inviato una mail alla preside anche per avere un canale più diretto con lei e con i professori, ma non ha risposto. All'entrata l'abbiamo intercettata e le abbiamo chiesto... Sì, lei è la preside, eh? Sì. Salve il piacere, Matteo Giacomini, siamo già conosciuti alla maturità, si ricorda? Senta, io sto documentando l'occupazione della sua scuola, vuole spendere per caso due parole? Gli abbiamo mandato anche una... No. Va bene. Allora abbiamo provato a chiedere ai prof. Detto internosso, cosa ne pensano? Cioè, ogni momento di protesta per me è legittimo, quindi... Quindi lei è mezzo favore. No, mezzo favore, cioè per me la protesta è una protesta. Ah, ma se lei c'è qualcosa di sbagliato nel sistema oppure... In modo preventivo, vabbè, ci lasciamo bene. Perché? No, dico c'è nel sistema, sì, ci sono cose sbagliate. Una prof però disposta a parlare con noi, per fortuna c'è, e ci ha detto... In merito all'occupazione io sono molto critica. I ragazzi lo sanno, l'ho detto in tutti i modi, sono sempre stata molto critica. Non credo in uno strumento che vedo davvero molto obsoleto, e ormai sembra quasi un rituale prenatalizio, spezza questo dialogo, cioè ti fa ripiombare nell'ottica noi, cioè studenti, voi, cioè professori. Cioè come se fossimo due, diciamo, entità antagonistiche. Alle ore 12 di venerdì la scuola è stata sbomberata dopo tre giorni di occupazione. Occupare è un atto estremo, ci sono molti modi più pacifici per farsi sentire. Un esempio è la raccolta firme, è una presa d'atto oggettiva e molto più efficace, soprattutto se poi partecipano anche i genitori. Inoltre questo tipo di proteste come le occupazioni ha spesso delle ripercussioni sulle valutazioni scolastiche di tutti i partecipanti, e può spesso causare conflitti con i docenti e con la preside. È altrettanto vero però che in molte situazioni aprire un dialogo risulta molto difficile. C'è sorta allora spontanea una domanda, ma non è che il problema sta alla radice. Un, due, tre, eh, eh!